Ecco qui la mia Fleischkäse che ho fatto ieri, l'ho imbastata con la macchina che mia moglie usa per fare la pasta, i dolci, ho imbastato la carne lì dentro dopo che l'avevo tagliata con il pettine 5 poi con il 3, una pasta finissima e poi dopo come detto imbastata in quella l'imbastatrice ho messo gli aromi, ho messo acqua minerale ghiacciata mentre imbastavo e poi l'ho cotta per 2 ore e 20 minuti e questo è il risultato questa macchia qui è un pezzettino di cipolla non avendo cipolla bianca ho messo quella rossa e perciò si vede bene l'ho assaggiata è molto buona ed è molto molto come si dice abbastanza dura dura nel senso che quando la tagli si taglia bene come un prosciutto questo è quello che vi volevo far vedere e adesso lo postiamo nella mia pagina youtube che voi sicuramente vi abbonerete grazie dell'ascolto e buon appetito anche a voi vi farò vedere dopo quando l'assaggio ciao 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 Grazie.